Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nostro appuntamento settimanale con il TWAB di Bungie succoso a questo giro perché si parla di abilità di tutte le classi e sottoclassi della prossima stagione con diversi cambiamenti che riguardano praticamente tutto dal congelamento della stasi alla scivolata alle super alla downblade alle lame spettrali insomma ci sta veramente tanta tantissima roba sarà un video lungo quindi mettetevi comodi prendetevi una cosa da bene e noi intanto iniziamo prima di iniziare come sempre vi ricordo che se non volete perdervi tutte le ultime news sul mondo di Destiny vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per le notifiche stanno per arrivare settimane calde tra TWAB interessanti e la presentazione del prossimo DLC del 24 di agosto che oltretutto vi ricordo seguiremo in diretta su Twitch dove mi potete trovare tutti i giorni e come sempre i link di tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione compreso Discord che in questi giorni ha ricevuto un leggero restyling ed ora è più snello e pulito e potete usarlo come sempre per cercare qualcuno con cui giocare o semplicemente entrare a far parte della nostra community allora abilità Bungie ha preparato una bella sfilza di cambiamenti in arrivo alla prossima stagione cioè proprio il 24 di agosto questo per cambiare un po' l'approccio dei nostri personaggi sotto alcuni aspetti nel farne di altri e va a farne di altri ancora primo punto da toccare che riguarda tutte quante le sottoclassi sicuramente è l'attacco corpo a corpo che come sapete ha qualche problema sulle distanze diverse volte ci capita di voler sparare magari un fumogeno o un coltello e invece siamo talmente troppo vicini al nemico che ci parte il corpo a corpo normale facendoci poi magari anche uccidere quindi Bungie farà qualche cambiamento introducendo la possibilità di bindare le due cose su due polsanti separati in modo da non potersi più sbagliare di default avremo la soluzione attuale e cioè la modalità automatica che deciderà lui cosa usare quando usare in base alla vicinanza dal bersaglio però poi avremo anche altre due scelte e cioè il corpo a corpo caricato e cioè l'abilità del nostro personaggio carica in quel momento come appunto detto prima il coltello o il fumogeno che potrà essere messa su un pulsante a parte e poi ci sarà la possibilità di bindare anche su un altro pulsante il corpo a corpo scarico che è l'abilità normale che conosciamo tutti su tutti i personaggi naturalmente sul pc sarà più facile fare questa scelta di tasti ma sul pad sarà un po' più complicato ma come sappiamo ora si possono fare diverse combinazioni anche con il pad e quindi insomma siete liberi di decidere dove mettere questa doppia scelta che avremo sul corpo a corpo passiamo adesso alla stasi e al suo congelamento c'è ancora qualche cosa da sistemare a dettaglio di Bungie e questo verrà fatto appunto alla prossima stagione l'obiettivo è quello di rendere il congelamento meno frustrante quindi ora chi verrà congelato potrà cominciare a scongelarsi anche quando è in aria mentre prima non si poteva fare l'animazione dello scongelamento durerà di meno così come anche la transizione della telecamera in terza persona quindi tutto sarà più veloce e dovremo essere subito pronti a combattere di nuovo una volta congelati punto controverso che sta già facendo un po' arrabbiare la community è la scivolata che è stata decisamente nerfata la scivolata con tutti i personaggi e fatta in tutti i modi che voi conoscete quindi si scivolerà sì nella prossima stagione nello stesso identico modo però facendolo riceveremo delle penalità che dureranno giusto il tempo della scivolata quindi non è così brutale come può sembrare però durante la scivolata avremo il 20% di stabilità in meno un 15% di spread dei colpi dello shotgun in più e un flinch aumentato quindi è un nerf dedicato agli scivoloni con gli shotgun diciamo così è una cosa che come detto riguarda solo il momento della scivolata quindi non cambierà tantissimo a livello di gameplay quindi si potrà continuare a scivolare solo che quando lo farete per avvicinarvi per sparare con il pompa lo farete con meno precisione passiamo ora alle singole classi e alle relative sottoclassi perché c'è tanto da vedere partiamo dagli amici titani che riceveranno dei cambiamenti sulla barricata sia quella piccola che lo scudo normale quella piccola riceverà un buff per renderla leggermente più utilizzabile stare vicino ad una barricata bassa ora ci darà il 30% di stabilità in più il 10% di range delle armi in più e il 50% di flinch in meno e naturalmente rimarrà il bonus attuale della ricarica per l'altra barricata invece farà più danno in base alla velocità degli avversari se appunto l'avversario deciderà di passare a tutta velocità attraverso una barricata del titano si prenderà quindi più danno rispetto a passarci lentamente così da pensarci due volte prima di rushare un titano dietro ad un muro torniamo a parlare di Stasi sempre sul titano con il behemoth che riceverà un piccolo buff alla sua scivolata che dalla prossima stagione romperà i cristalli e nemici congelati anche nella sua forma normale è stato rialzato il movimento della spallata del titano in Stasi del 25% perché forse prima era diventata troppo lenta quindi un leggero buff in generale ad una sottoclasse che si era vista completamente quasi sparire dal crogiolo passiamo ora alle sottoclassi di luce del ramo centrale solare del titano che riceverà un cambiamento riguardante il martello solare da tirare ora si potrà raccogliere con più calma quando cada a terra perché sarà aumentato il suo timer di despawn fino a 10 secondi e poi farà più danno ai nemici potenti in pwe di circa il 50% le sottoclassi ad arco quella di sopra e quella di sotto sempre del titano quindi il classico striker riceveranno un buff in super aumentando il raggio di esplosione dello slam a terra del 14% e riducendo il costo della super dal 21% al 18% quindi in teoria dovrebbe durare leggermente di più la bolla invece così come la pozza dello stregone riceverà un piccolo nerf cioè con il sovrascudo della bolla i boss ci faranno più danni rispetto a quelli che riceviamo attualmente il che renderà queste due super meno potenti da usare per ricevere meno danno durante le boss fight staremo a vedere perché già ora in difficoltà maestro per esempio alcuni boss fanno male cane e persino con il buff della bolla o dentro la pozza quindi sarà più complesso rimanere lì dentro fermi a fare dps cacciatori è il vostro momento anche qui per loro ci sarà un leggero ribilanciamento riguardante la stasi troppo nerfata nell'ultimo aggiornamento infatti la super ora avrà un movimento più veloce del 20% il vortice che crea la super e quando il vortice arriva a toccare un boss ora si fermerà su di lui per aumentarne un pochino l'efficacia gli shuriken che ora sono diventati veramente poca roba avranno sia un movimento che un tracking migliore del 10% che non è molto ma è qualcosina in più mentre la pistola d'oro con la sestina dorata per evitare che in crogiolo ci vogliano due colpi per uccidere nemici troppo lontani è stato aumentato il damage fall off di 5 metri che arriva ora a 25 il bastone ad arco è forse una delle sottoclassi che peggio si integra nel sandbox attuale quindi riceverà un po' di ritocchi la super avrà durata maggiore di 4 secondi arrivando a 20 l'attacco pesante avrà un raggio maggiore di 1 metro arrivando a 6 metri e in pve il danno in generale verrà aumentato del 33% il light wave del ramo centrale che aumenta la velocità di ricarica avrà la possibilità di aumentare la sua scadenza facendo danno con le armi passiamo al vuoto dove solo il ramo centrale riceverà dei tocchi quindi le lame spettrali che sarà leggermente meno tankosa ricevendo un nerf alla protezione dei danni passando dal 52% al 47% stregoni è il nostro momento ora e anche qui partiamo proprio dalla stasi come le altre classi Bungie dice che la super dello stregoni da stasi è la migliore capace di contrastare le altre super riuscendo a spegnerle dopo averle congelate con un colpo solo e fin qui è vero dalla prossima patch avremo bisogno di fare due attacchi ad area per poter sconfiggere gli altri in super in crogiolo quindi congelamento e due attacchi per poterle uccidere qui un pochino non sono d'accordo diciamo così perché renderà questa super secondo me ancora meno utilizzabile in crogiolo rispetto a già come non lo è adesso comunque andiamo avanti perché si parla di downblade ramo alto una delle sottoclassi più usate in pvp riceverà dei cambiamenti per bilanciarla un pochino l'attacco corpo a corpo per esempio il fuoco celestiale ora avrà un tracking meno potente e la sua detonazione verrà diminuita di un metro di raggio il dash di icaro ora non si potrà più concatenare facendolo due volte di fila ma si potrà fare solo un dash ogni 4 secondi a meno che non si decide di usare appunto la granata e passare al buff di it rises in quel caso allora si potrà tornare a fare la doppia schivata però soltanto ogni 5 secondi proprio it rises verrà aumentato di 5 secondi passando a 15 e quando saremo in aria ora compariremo anche nei radar nemici quindi sarà leggermente più facile capire la posizione degli stregoni che volano momento pozza quindi ramo centrale solare come vi avevo accennato con la bolla del titano qui avremo un nerf ai danni ricevuti dai boss quando siamo in pozza quindi ne suberemo di più in pvp però ci sarà un buff del 20 per cento e i player all'interno saranno immuni alla stasi e al congelamento ramo basso verrà aggiunta un'esplosione ai nemici colpiti dalle abilità quindi super granate corpo a corpo che farà bruciare anche i nemici vicini passiamo alla caos reach quindi ramo centrale ad arco che è una delle top class da usare in pvp proprio per via della sua super ora il raggio della sua super verrà ridotto per evitare che faccia troppo danno attraverso pareti e piccole protezioni del 20 per cento e del 33 per cento soltanto la parte finale dove appunto si creava quella piccola bolla speriamo che questi nerf non la rendino completamente inutilizzabile comunque staremo a vedere sempre sotto classe ad arco però ramo basso in questo caso l'anima ad arco è stata leggermente baffata quindi durata aumentata di un secondo e anche il ratio di fuoco sarà aumentato del 10 per cento distorsione nuova ramo centrale da vuoto riceverà un buff in pve del ben il 73 per cento e non rallenterà più quando si caricherà il colpo e anche il tempo di cast sarà leggermente ridotto quindi dovrebbe tornare ad essere leggermente più utilizzabile la supernova manuale invece la granata concentrata dello stregone riceverà un buff del 100 per cento in pve quindi solo in pve non in pvp però bisognerà tenere la granata caricata per un secondo di più ok tanto da digerire in questo hub diverse abilità che sono state leggermente cambiate non sono cambiamenti radicali ma piccoli aggiustamenti sia in pve che in pvp curioso di provare l'ultima di cui abbiamo parlato quindi la distorsione nuova in pve anche se non penso che sarà comunque una cosa che cambierà il meta così radicalmente in pvp invece la cosa più importante è sicuramente la scivolata con gli shotgun che da utilizzatore di cecchini non può che farmi piacere ma so che a molti di voi invece appunto sarà il contrario comunque non penso che sarà così radicale come molti pensano un po' come era successo in passato con i cambiamenti al recoil di mouse e tastiera e poi il pad quindi aspettiamo la prossima stagione per provare queste nuove cose e occhio alla prossima settimana perché avremo a che fare con i cambiamenti alle armature esotiche e non quindi sarà un altro hub molto interessante e da non perdere per il momento io vi lascio come sempre fatemi sapere cosa ne ve ne pare di questi cambiamenti qui sotto nei commenti io vi ringrazio di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima